cari amici di serenamente finalmente il momento è arrivato stasera esce The Young Pops Sky 1 la serie tesissima di Sky finalmente a proda in televisione volevo darvi qualche anticipazione per godervi al meglio questa nuova serie allora intanto partiamo dal protagonista Jude Law nei panni di Papa Pio XIII Lenny Belardo una figura direi controversa ambigua anche spietata un Papa come non l'abbiamo mai visto al Vaticano beve coca cola fuma sigarette gira in infradito un Papa che prima di tutto è un uomo come ci tiene a sottolineare Paolo Sorrentino il regista della serie tv una serie che devo dire è costata parecchio alle tasche sia dei produttori italiani che internazionali ovvero ben 40 milioni di euro ebbene sì questa cifra spesa per produrre questa serie che dopo l'Italia andrà anche in Germania Regno Unito Francia insomma farà davvero il giro del mondo detto questo nel cast vediamo anche il suo armeri ovvero Diane Keaton che sarà colei che avrà appunto il compito di domare tutte le ansie le ambiguità di questo Papa e Silvio Orlando ovvero il cardinal boiello che invece darà anche del filo da torcere a Papa Pio XIII detto questo vi lascio soltanto con un'altra piccola anticipazione ovvero che a quanto pare c'è già siamo già al lavoro per una seconda stagione potrebbero esserci questi rumors e noi intanto ci godiamo questa serie tv diretta da Paolo Sorrentino il grande premio oscar della grande bellezza 2015 buona visione buon cinema anzi buona serie tv a tutti ciao